Allora, buongiorno a tutti, stamattina al mercato gli ambulanti sono tutti sul chi va là, sono tutti un po' arrabbiati per le dichiarazioni che ha lasciato Binelli nel Consiglio Comunale che si è svolto venerdì 28 luglio, perché praticamente dichiara che noi siamo dequalificanti per la città di Varese. Io lo inviterei a venire al mercato, perché io Binelli lo conosco ma non l'ho mai visto al mercato di Varese e mi piacerebbe farle vedere che nelle sue dichiarazioni sono il contrario, perché noi abbiamo dei bellissimi banchi, delle persone qualificate, persone che hanno una storia nel mercato e non è giusto che comunque invece denigrino il mercato.